Burlani, oggi avremo 15 minuti perché io contro Bella Faccia dovremo fare... No, non iniziamo, allora... E mi distruggiamo tutto. Allora, lasciate mi piace! Ma mi stai distruggendo? Sai che là in fondo magari ci sono altre strutture? Vabbè, comunque, oggi dobbiamo fare Casa Lunar contro Casa Red Sun. Io farò Lunar e Bella Faccia farà Red Sun. Abbiamo 15 minuti a partire da... Alexa, questo è un timer di 15 minuti. A partire da una. Ti stavo per dire prova, ma l'avevi già fatto. Ok, abbiamo 15 minuti a partire da ora. Dobbiamo fare la Casa di Lunar. Lunar è cattivissimo, lo sai? Marci, Marci, è più cattivo il mio. Dai, ma cosa stai dicendo? Dici che è più cattivo Red Sun di Lunar? Nei commenti, ragazzi, cosa potete scriverci? Chi preferite voi tra Red Sun e Lunar? Secondo me è più cattivo Lunar. C'ho preso questo presentimento. Allora, fatemi fare un pochettino la Luna. La facciamo con il grigio... Il grigio chiaro e il grigio scuro la facciamo. Mi sembra la cosa migliore. Allora, aspetta. 251 diviso 8. Il mio non è facile, eh? No, nessuno dei due penso che sia facile. No, il mio è di più. Allora, facciamo 9 di grandezza. Sì! Bello! Mi sa che c'è un botto così, eh? Vediamo. Ragazzi, è bellissima questa sfera. Questa è già Lunar, praticamente. Guarda, devo solo riuscire a fare una roba e ti distruggo, Marz. Cosa fai? La sfera stai cercando di fare? La sfera, sì. Quella che ti ho insegnato a far prima? Eh, che non riesco a fare. No, come non riesci a farlo, boss? Cosa mi combini? Allora... Voglio mettere il V... No, non posso dire. Ragazzi, è balesemente Lunar. È bellissimo. È lui. È lui. No, torno indietro. Non è successo niente. Non è successo niente. Non avete visto niente. Il boss e i comandi al cinema, ragazzi. Non avete visto nulla. Ok, io invece sto facendo la mia faccina di Lunar, che è bella... Bella bruttina la faccia di Lunar, raga, eh. La faccia di Lunar è bella brutta. Io sto controllando un'immagine su Google. Mamma mia, raga, ma spaventuosa sta cosa. Mi fa venire l'ansia solo a vederlo, porca miseria. Non ho ansia, sti cosi. Come faccio a fare la bocca? Io la faccio tipo col nero, così. Eh, la bocca è tosta, eh. Anche per te è tosta? Sì, tosta. Ci vorrebbe un bel tost... È un tost... Un tost a pane. Un tost a pane. Io me ne vado. Io adesso avrei va di un panino, sinceramente. Dai, Marzi, non mi fa venire fame, che ora... Il mio fa veramente pa... Ragazzi, il mio fa veramente paura. Ha così paura? No, ti giuro, il mio è spaventoso proprio. Se me lo sogno la notte? No, ti giuro, il mio se lo sogno la notte, i fan. No, no, non dire così. È veramente brutto. No, Marzi. Ho paura, ragazzi, scusatemi. Non ero in mente, non volevo. Neanche per scherzo si dicono queste cose. Porca miseria, ma ve lo sogno di notte sta roba, ragazzi. Neanche per scherzo. Ma che cavolo... Oh mio Dio, è terribile. Secondo me non mi batti comunque, eh. Dici? Non so, potrebbe essere che tu non mi batta. Che io ti batta, che non ti batta. Eh sì, batta. Che quella roba lì, che quella roba lì, insomma, sì. Ok, io se vuoi facciamo col bianco. Mi fa paura, eh. Fa paura il tuo? Mi fa molta paura. Io sto facendo la scaletta per entrare. Per il tempo del mio c'è la scaletta, capito? La scaletta. Ah, ma io sto facendo gli occhi, la bocca. Eh sì, ma io faccio anche la scaletta per entrare. Dentro deve essere arredata, è una casa. Eh, ho capito. Ma se è una casa. Dammi un attimino, cavolo. Ma se è una casa, cavolo. Cavoli, fiore. Dai, Marzi, non mi sconsentrerà che devo costruire con tutte le tue cavolate. Ma ragazzi, ma è bellissima la mia. Tu entri da qui e qua c'è dentro tutto. Mi ha fatto sbagliare. Il mio è veramente, è pazzesco, boss. C'è, non c'è, non c'è altro da dire. Marzi, sono riuscito adesso solo a fare gli occhi. Ma come adesso? È difficile. Ma guarda che manca poco tempo, boss. No, non manca. Alexa, quanto manca il timer? La reazione è più difficile del tuo. Il timer 15 minuti restano 8 minuti e 30 secondi. 8 minuti, boss? Boss, 8 minuti? Ma il mio è più difficile del tuo. Ma non è vero, siamo lì. E' rezzan, è più difficile. Dici? No, è anche più cattivo, te l'ho detto. Che sì, però sono da togliere fuori, eh. Allora. Marzi, cosa combini? Parli da solo, Marzi? Ma guarda, veramente ho fatto un disastro. Eh, sì. Ho veramente fatto un disastro. Io faccio tutto sul grigio bianco. Allora, Marzi, io mi sto concentrando. Allora. Non mi importa, i letti, i falli come vuoi. Grazie, eh. Grazie che non mi vieni incontro. Allora. Che compagnia, eh. Bello, no. Oh, il mio fa troppo ridere, Marzi. Fa ridere? È bellissimo, fa molto paura. Oh, il cavolo mo'. Beh, dovrebbe far paura, quindi vuol dire che stai centrando l'obiettivo del video. Oh, mamma mia, fa paura. La casa, allora, la casa. La casa, sì, la casa. Infatti adesso la casa, pensiamo a sta casa che ora. Sì, la casa, esatto. La casa. La casa? La casa, la casa. Ah, perché dobbiamo fare una casa? Sì, la casa dobbiamo fare, esatto. Dobbiamo fare una casa? La casetta nella casa. Della casetta gialla. Mamma mia. Ma è spettacolare questa cosa. Ragazzi, ma cosa sto facendo? Ma dico... Ma dico... Io... Io non posso neanche careggiare contro di te. Marsi, ma fa schifo la tua luna. Sì, la luna... Il sole batte la luna. Ma come diamine ti sei permesso di dirlo? Ma te l'ho detto che il sole batte la luna. Sì, che luna... Dai, su. Dai. Cosa preferite, ragazzi? Sole o la luna? O luna? Ma la domanda questa, io non so cosa preferisco. Ma che domanda è? Non lo so, mi sa che mi piace più la luna a me, però. Più la luna? Allora ti piace più la notte. La notte è bellissima, dai. Mi piace più la notte, quindi. La notte è tanta roba. Tanta roba. Ok, guarda che bello. Va aspettato. Ma la mia cucina è pure bellissima. Ma cioè, ma stiamo parlando di che cosa? Del niente. Pure la cucina, infatti. Del niente stiamo parlando, perché la mia è troppo bella. Solo che queste... No. Queste sedie tutte bianche non sono il massimo, perché è tutto bianco, praticamente. Facciamo che cambiamo un po' il colore delle sedie. Almeno... No, 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 devi farlo rosso, mi caro. Rosso? Eh, devi farlo... Perché rosso? Se vuoi faccio tutto rosso? Il lunare è... Bello. Va che bello. No, ragazzi, il mio è carino. Ci può stare. Però devo fare anche il gabinetto. Facciamo... No. Sai cosa faccio? Gli metto la jacuzzi. È jacuzzi. Gli metto la jacuzzi. Ma il lunare è povero, non solo povero. No, invece no, è ricchissimo. Ma cosa ti chiedi? Non è ricco. Tu non lo sai, ma è ricchissimo. Il lunare è ricchissimo. È un poverazzo. Ma come ti piassa per me? Guarda che... Adesso mi fa schifo a confronto. Vuoi che te lo dico? L'ho detto. Non siamo più amici. Ecco. Io l'ho detto. Io l'ho detto. Bello! Le scale crafting table sono bellissime! Serio? Te lo giuro. No, sono belle veramente. Sono belle veramente? Sì, sono bellissime. Aspetta, lava. Lava? No. Non puoi sentire. No, la lava non si usa, boss. Stai attento. No, non si usa quello che voglio. Ecco, sapevo io. Finisce male qua, ragazzi. Finisce male. No, stai tranquillo. Qua ci mettiamo addirittura la doccia che scende. Allora, Marzi. Ma vogliamo mettere, ragazzi. Marzi. Dimmi. Se mi viene sta cosa. Allora, adesso metto una cosa. Dimmi. O crash a tutto. No, ti prego, non facciamo crash. Fai che c'è la fine, se vuoi. O esplode la mia casa. Sì, sì, tanto. Poi mettiamo, non so, la stanza da gaming la faccio? Oppure, spazio anche per la stanza da gaming. Eh, certo. Ma che cosa si... Boss, ma con chi credi ti sto parlando? Ma scusami, eh. Non ho capito. Non ho capito. Ok, così e così. Bello, il mio, il mio mi piace. Il mio mi piace. Mi piace. Alexa, quanto manca il timer? Aiuto. Soft? Non hai il timer chiamato aiuto? No. Ma Alexa, non hai il timer chiamato aiuto. Alexa, quanto manca il timer? Tre minuti. Tre minuti. Io ce la faccio in tre minuti, tu ce la fai? Eh, insomma, Marzi. Eh, boss. Nei cose bisogna farlo un po' più in fretta, però, eh. Cioè, sei un po' troppo lento, secondo me. Oh, non tirartela, eh. Mamma mia. Io sto facendo veramente una cosa incredibile. È epica. Veramente incredibile, sì. Epica. La mia è, non è epica. Etica. È mitologia. Mitologia, sì. Greca? Epica, mitologia. Sì, greca. Ah, mamma mia. Ma perché io devo stare qua? Aspetta, sto mettendo anche la lavatrice io, perché lui fa anche i panni. Fa anche i panni. Mamma mia, non ho parole per definire tutto questo spettacolo, perché è spettacolare sta cosa. Oh, è finito il tempo, eh. Dai, hai proprio qualche secondino in più, ma... Alexa, basta. Io ho fatto. Hai fatto tutto? Ma sì, dai, anche il mio va benissimo così. Guardate che spettacolo, che spettacolo. Allora, vengo a vedere prima la tua. Mamma mia, quanto è imponente. Aspetta, aspetta, aspetta. Non ho guardato ancora. Aspetta. Aspetta. Vado? Aspetta? Vado? Tre, due, uno, vai. Vado. Ok. E la faccia? All'altra parte, ok. Addirittura! Bellina! Bellina, bellina. Bellina, la lava, pure. Bellina, la lava, eh. Red sand, vediamo la casa. Ah, la casa è dentro qua, hai capito? Dai, che idea è? Bella, bella, bella. Boss, stavolta l'hai combinata bene. Dai, che bella è. È veramente bella. È veramente bella. Dentro la lava, dentro la supera. Te l'ho detto che era più bella. No, è bella, è bella. Era più cattivo il mio. È bella. Vieni, vieni, vieni qua. Andiamo. Non sei convinto, eh? Mi piace, mi piace molto. Nooo. Ma sembra un'android. È bellissimo. Vieni dentro, va. No, vabbè, posso dire che sembra un'android. No, no, sono bella entrambi. Oh! Ma che è? Nooo. Oh! Ah, se t'avvicini lì si spegne la luce, non lo sapevo. Guardate. Ma ci stiamo sul metro. Ma che bello? No, è lo specchio. Lo specchio, non l'ho mai... Amici, ora sta a voi decidere nei commenti quale delle due cose mi piaciuta di più. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao!